Per continuare ad offrire ai nostri clienti esperienze indimenticabili per le loro vacanze, questa volta abbiamo pensato ai Caraibi, in un'isola unica e paradisiaca, la Repubblica Dominicana. Ma abbiamo bisogno di un vero corrispondente con esperienza, che ci garantisca un servizio eccellente. Ho già fatto l'indagine, so chi può essere il nostro rappresentante Repubblica Dominicana, Colonia Alturentrave. Ha più di vent'anni di esperienza come tour operetto recettivo di Uxxi. Colonia Alturentrave è l'unico con filiali nelle principali aree turistiche della Repubblica Dominicana. Punta Cana, Samanà, Puerto Plata, La Romana, Boca Cica, Ufficio Centrale a Santo Domingo e anche Ufficio a Lavanacur. Dispone di assistenza 24 ore nei diari a porti e hotel. Servizi esclusivi di trasferimenti in bus privati. Prenotazioni di hotel in tutta la Repubblica Dominicana, Cuba e Puerto Rico. Hanno un programma di escursioni e attività interessanti su tutta l'isola. Servizi e prenotazioni B2B online e un'equip multilingue di agenti specializzati. Repubblica Dominicana è unica, offre di tutto e i nostri clienti saranno in mano di Colonial Tours, il tour operator recettivo leader dei Caraibi.